Soste a pagamento in procinto di attivazione a Favara. Ad oltre un mese dalla conferenza di presentazione, dal Comune sono state completate le operazioni di tracciamento delle strisce blu e di collocazione dell'apposita segnaletica verticale nelle piazze Cavour e Vespri e in un tratto della via Vittorio Emanuele. Le parkard sono già a disposizione di due punti vendita che ne hanno fatto richiesta, ovvero il caffè Cavour dell'omonima piazza e la cartolibreria Pecoraro di via Vittorio Emanuele. Il provvedimento, votato dal precedente Consiglio Comunale ed adottato dall'attuale amministrazione, stabilisce le aree per le soste a pagamento e di relativi prezzi. Nell'atto approvato dalla pubblica assise, si prevede l'adozione delle strisce blu anche alle vie Kennedy, via 4 Novembre e Roma. Due le tariffe, 50 centesimi di euro per un'ora, 30 centesimi per mezz'ora. Le strisce blu di piazza Cavour, piazza Vespri e un tratto di via Vittorio Emanuele saranno attive da lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 20, escluso i giorni festivi. Dal pagamento dei ticket saranno esclusi i veicoli delle Forze Armate, pronto intervento, vigilanza privata, polizia locale e protezione civile. Parcheggio gratuito anche per i mezzi di enti istituzionali riconoscibili, quali ad esempio amministratori comunali, ASP e Genio Civile. Nell'ordinanza sindacale di istituzione delle aree di sosta a pagamento, si prevede anche il permesso temporaneo di parcheggio gratuito per i veicoli nel cui nucleo familiare dei proprietari ci sono soggetti portatori di patologie invalidanti o in stato di gravidanza. Lunedì, afferma il comandante della Polizia Municipale Gaetano Raia, segnerà l'avvio del provvedimento. Lo scopo, come più volte annunciato dagli stessi amministratori, non è quello di fare cassa ma di contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. Ma come reagiranno i favaresi? Staremo a vedere.